Buongiorno e bentrovati con Mattino, Siamo 6, venerdì 12 ottobre 2018, tra poco scopriremo i titoli delle prime pagine abruzzesi e delle prime pagine nazionali, poi sfoglieremo i quotidiani locali e rivedremo alcuni dei servizi realizzati ieri dalla redazione del TG6. Iniziamo subito con il centro nelle sue quattro edizioni, la prima pagina che presenta un titolo d'apertura che è unico appunto per le quattro edizioni, influenza pronti 245 mila vaccini, la prevenzione in Abruzzo provincia per provincia si parte a fine mese. Poi in alto leggiamo, spunta una lettera, così l'esperto del MIT aveva chiarito tutto la vicenda, quella dei fondi del Masterplan per la 24 e la 25. Poi ancora Sanitopoli e Cesarone, la condanna è definitiva per del Turco e Cesarone appunto, e poi primo sì al DEF, a primavera stop Fornero e reddito di cittadinanza. Andiamo a centropagine dove c'è una fotonotizia, Biancazzurri in vetta, Pescara si innamora di Pillon, viaggio tra i tifosi che sognano la Serie A. Poi alcuni richiami di cronaca, a Pescara nasce un teatro in centro per i grandi eventi, sempre a Pescara, per la provincia, tre i candidati alla presidenza. Ancora la cronaca, cappelle sul tavolo, la donna sparita cercata nel fiume invece era a casa. E poi ancora Popoli, false magliette di Ronaldo, un denunciato, la finanza sequestra capi contraffatti della Juve e apparecchi per la duplicazione. Andiamo a vedere ora l'edizione di Chieti Lanciano Vasto del centro, a centropagina Blitz nel ristorante dei VIP, trovati cocaina e hashish, a San Salvo Polizia al Vanity in Manette. Il titolare. Poi i richiami sempre a Chieti, la Lega salva la maggioranza di Di Primio. E poi ancora sempre a Chieti, partite vietate nelle palestre delle scuole. A Ortona invece cattivi odori in centro, non si respira. Ancora la cronaca che leggiamo sotto la fotonotizia. La droga a scuola, studente arrestato. A Villa Santa Maria, a Carabinieri, all'alberghiero, minorenne, getta mariuana dalla finestra. E poi il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna in basso, se il DJ viene mollato o perché noioso. Siamo all'edizione terramana del centro, con la fotonotizia dedicata al campione del mondo dell'82, famosissimo per il suo urlo dopo il 2 a 0 alla Germania, Marco Tardelli. Tardelli, io, la nazionale e il mondiale dell'82, a Montorio per la presentazione del libro. E poi a Teramo, siamo nella sezione dei richiami di cronaca, Asla a fine mese scadono 191 contratti. A Giulianova lascia la fabbrica per coltivare i melograni. E poi ancora, per quanto riguarda la pagina giudiziaria, processo sui tetti di spesa, Venturoni e Chiodi, no alla prescrizione. Viadotti, superperizia della procura, accertamenti tecnici sulla sicurezza dei pilastri della 24, fra Colledara e Isola del Gran Sasso. E ora siamo sulla prima pagina dell'edizione aquilana del centro. Fotonotizia dedicata allo sport, al rugby in particolare, domenica al via serie A e B. L'Aquila, Avezzano e Paganica, ambizioni e dubbi. E poi nei richiami, all'Aquila si scatena l'asta per l'ex scuola Reis Romoli. Sempre all'Aquila, muore a 42 anni la scrittrice Emanuela Ardingo e a Sulmona Senteismo, il comune non interviene. Di nuovo la cronaca, paura delle botte, bimbi nell'armadio. Al luco dei marsi, mamma scappa e chiede aiuto. I tre ragazzini escono dopo l'arresto del padre. Siamo ora sulla prima pagina del messaggero Abruzzo. Ecco l'apertura del Turco, condanna definitiva. Cassazione inflitti tre anni e undici mesi all'ex governatore per la Sanitopoli abruzzese. L'avvocato difensore dice un pugno di fango da cancellare. Chiederemo la revisione. E poi, come abbiamo già visto, l'altro processo. Cliniche, Chiodi, rinuncia alla prescrizione. Con lui anche l'ex assessore regionale, Lanfranco Venturoni. Andiamo sotto la testata. Finanza, Juventus e CR7 scoperta la centrale delle false maglie. E poi ancora Serie C, patroni Campi dell'Incita, il gruppo negli spogliatoi. Sempre per il calcio, la parola al dirigente sportivo Fabio Lupo, che dice Pescara da vertice. Un rinforzo per il Real, ovvero il Real Giulianova, che ha tesserato l'attaccante Fabio Mangiacasale. E poi ancora leggiamo il manager di Campi. Si pronostica un futuro da Serie A per Macin. Speriamo che sia con il Delfino, Macin, giocatore della scuderia di Campi. Oggi amichevole con i Nero Stellati per il Pescara. Ore 15 allo Stadio Ricci di Prato alla Peligna. Di spalla, cyberbullismo e violenze sul web. Ecco come fermarli. Esperti della materia, riuniti a Palazzo Torlonia, ad Avezzano. Poi abbiamo la fotonotizia, centropagina, case popolari, via ai lavori, palazzine con 64 alloggi a Pescara, in particolare in via Tronto. E poi in taglio medio, autostrade, i 5 Stelle, non c'è stato uno scippo. I fondi del Masterplan anticipati con l'accordo della regione. E poi in basso, all'Aquila, madre e bimbo cacciati dall'aula. E andiamo ora a chiudere questa parte con la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo, che apre così nominati primari dei reparti chiave, radiologia e chirurgia del Mazzini di Teramo, affidati ai dottori Nevia Caputo ed Ettore Colangelo. E poi sotto la testata per la cronaca, in 27 a processo per lo spaccio lungo la costa Sanitopoli, confermata la condanna per Del Turco, Atri e l'agenzia dell'Inps a rischio chiusura. La fotonotizia a centropagina, festa per Giovannino, centinaia di bambini ricordano il maestro Pettinaro. Poi una serie di richiami intorno alla fotonotizia. Intanto per quanto riguarda il comune di Teramo, stangata Tari, pronte le contromisure per ridurre i costi del servizio. E poi ancora Anas insiste il ponte di San Gabriele e del comune. Poi da quest'altra parte per la giudiziaria Chiodi e Venturoni rinunciano alla prescrizione sul processo per i tetti di spesa. E poi la regione scrive al comune che fine ha fatto il centro di sabili di Santo Mero. Scendiamo, torna il mercatino dell'antiquariato, appuntamento a novembre, in Piazza Martiri. E poi a piedi pagina la politica Giulianova, ultimo attacco del PD a Mastro Mauro. E poi a Roseto, barista morsa da un cane, chiede i danni al padrone. Possiamo lasciare i quotidiani locali. Andiamo sulle prime pagine delle testate nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera con il caso Cucchi che è tornato in questi giorni di strettissima attualità. Anche perché, come leggiamo, c'è una svolta in aula. Al processo Biss, un carabiniere ammette il pestaggio e accusa due colleghi dopo nove anni. La sorella Ilaria dice cade un muro. Ora le scuse. Il legale è un riscatto per tutta l'arma. E poi ancora sotto la testata, Pordenone Caggio, squadra di Serie C che peraltro milita nel Girone B, Girone del Teramo. Bimbi liberi di giocare, così saranno campioni nel reportage di Paolo Tomaselli. Poi, tornando alla politica, con le parole del Capo dello Stato, Mattarella. Il potere in ebria, la carta lo limita, Boeri no al piano pensioni, Salvini replica, si dimetta. E poi scendiamo a centro pagina, troviamo la fotonotizia. Soyuz fallisce il volo, salvi gli astronauti. Atterraggio d'emergenza poco dopo il decollo. Andiamo ora sulla prima della Repubblica, anche in questo caso la vicenda legata a Stefano Cucchi. Cucchi, la verità del carabiniere. Calci e pugni, così fu pestato. Svolta dopo nove anni, militare imputato, accusa due colleghi. La sorella Ilaria dice il muro è caduto. Poi, a centro pagina, intervista al presidente del Bundestag, Wolfgang Schauble, che dice che il populismo sta mettendo sotto pressione la democrazia. Poi ancora, a piedi pagina, le critiche a Banca Italia e UPB. Il potere non deve inebriare. Mattarella difende le autoriti dall'attacco di Salvini e Di Maio. Poi il dossier, la pillola che spacca l'Italia, aborto difficile con la RU486, boicottata da molti medici. La prima pagina di Libero, ecco qui Salvini, condannato a stare con Di Maio. Meglio questo governo che l'inferno. Matteo finge di andare d'accordo con Giggino per sfruttare una situazione che lo aiuta a realizzare i propri capisaldi. Così, all'Europea stravincerà, rompere prima significa finire in mano ai tecnici. Mattarella si mette di traverso sulla manovra, sono io il garante. Forza Italia scende in piazza. E poi a centro pagina, la fotonotizia con un'immagine di Fabio Fazio. Fazio fa beneficenza a Cottarelli. Paga l'economista 6.500 euro a puntata. Poi ancora, in basso, lezione di democrazia della Lega, la parò di Rest in Rai. La giornalista in un'intervista disse che il carroccio è votato da ignoranti. Andiamo ora sul fatto quotidiano che dedica praticamente l'intera prima pagina sulla fascia centrale al caso Cucchi. Tutte le carte della svolta, pestaggio e depistaggio. Tedesco, carabinieri imputato, accusa due colleghi. Colpirono Stefano con pugni e calci, ma qualcuno fece sparire le prove. E poi ancora, tornando alla vicenda del DEF, pure Boeri e Anti e dalle camere ok al DEF e arrivano i tagli all'editoria. Siamo ora alla prima pagina del messaggero. Ecco qui nell'apertura. Mattarella, no, ha troppo potere. Statali, la mina, liquidazioni. Il Colle difende le autorità dopo gli attacchi. La carta ne tutela l'indipendenza. DEF sia le camere. La BCE, l'Italia, non potrà essere aiutata fuori da un piano UE. E poi sotto la testata, intervista a Stefano Sollima che dice Il mio soldato ha stregato Hollywood. E poi per il mondiale di pallavolo femminile c'è una nazionale che vince sempre. Le ragazze del volley che vanno al Final Six. E poi ancora, scendendo, la riforma Fornero. Pensioni, allarme Boeri, lite con il governo. Assegni più alti, nuove esenzioni dal Tario. Ministeri in trincea, fondi da ridurre. L'altola del Grillo. Siamo a centropagine. In taglio medio, Soyuz lancio con avaria. Piloti salvi, atterraggio d'emergenza in Kazakistan. Poi Cucchi svolta in aula. Carabiniere ammette picchiato in caserma. La rivelazione di uno degli imputati. Ho visto i colpi dei colleghi. Il viminale invita la famiglia. E poi, in basso, il delitto di Maria a Fiumicino. L'ho uccisa dopo la lezione. Il crollo del personal trainer. Siamo sulla prima del manifesto. Anche in questo caso la vicenda Cucchi. L'apertura è l'arma del delitto. Schiaffi, calci e pugni senza pietà. Nove anni dopo la morte di Stefano Cucchi. Uno dei carabinieri imputati racconta nei dettagli il pestaggio subito dal ragazzo. E accusa gli altri due militari coinvolti nel processo. Il PM denuncia scomparsi dalla caserma importanti documenti. La sorella Ilaria. Il muro è crollato. In tanti dovranno chiedere scusa. E poi, in basso, Spagna, nel bilancio 2019, torna il welfare, patto, psoe, podemos. Un nuovo inizio. Andiamo ora sulla prima del sole 24 ore con le parole del vicepremier Luigi Di Maio che dice all'Italia NUCO con MEF al 15%, FS partner strategico. Ancora le dichiarazioni del vicepremier che dice fra 1,5 e 2 miliardi la dosazione della società offerta entro il 31 di ottobre. Verso il biglietto unico treno aereo. Non escludo anche una bad company. E poi, in questa foto notizia, FCA sotto il milione di auto in Italia nel 2018. E poi, ancora in taglio medio, Mattarella in difesa di Banchi Italia. L'indipendenza è nella Costituzione. Il capo dello Stato difende l'autonomia delle autorità. Ha nessuno troppo potere. Poi il botte risposta ieri tra il presidente dell'Inps, Boeri, e il vicepremier Salvini. Boeri, pensioni d'oro, 150 milioni, quota 100. Costerà 100 miliardi. Salvini, il presidente dell'Inps, fa politica. Si dimetta e si candidi. E poi, ancora, BTP, vola il costo degli interessi. Assegno l'asta da 6,5 milioni, ma il rendimento del titolo triennale balza al 2,51%. Spread in risalita a 306 punti. Fonti BCE senza un piano E. Nessun soccorso all'Italia. La prima del mattino, il richiamo di Mattarella. Troppo potere in ebria. Manovra il Colle difende le Banche Italia dagli attacchi del governo geloverde. Battaglia sui tagli. Il Ministero della Salute in trincea minaccia le dimissioni. Poi ancora, sotto la testata, il concerto a San Siro U2. Il rock che batte Bandiera dell'Europa. È un inno alla gioia. Poi la nuova maturità. Canfora. La storia è considerata un nemico da tutti i partiti. Poi sempre sotto la testata, ricorso bocciato. Corri razzisti, giustizia è fatta. È raddoppiata la pena al Juve. La fotonotizia poi al centro. Lo sport negato. Napoli senza impianti. Gare a rischio. La Federvolley ha bloccato i campionati. E poi, sempre in taglio medio, Cucchi. La svolta shock. Carabinieri ammette. Preso a calci in faccia. Andiamo avanti con la prossima testata, che è quella del giornale. Questo è il titolo d'apertura. Tasse subito. Il resto forse. È in aula. Mancano otto voti. La manovra passa in Parlamento. Per ora ci sono otto miliardi di imposti in più. Flat tax, reddito e pensioni. A quota 100 invece. Si eslittano alla primavera. Tria sfiduciato dagli investitori. In Italia avete il caos. Poi, in taglio medio, il casce d'oro all'ex dirigente FMI. La nuova vita di Cottarelli in Rai. Per ogni lezio in Cina 6.500 euro. E poi il retroscena di spalla. Il no dei big del carroccio alla finanziaria elettorale. E siamo ora alla prima pagina della verità. Anche Boeri contro quota 100. Quante balle sulle nostre pensioni. Il presidente Ips, che godrà di doppio assegno e vuole abbassare l'asticella di quelli d'oro, ha 2.000 euro. Sproloque di 100 miliardi per il superamento della Fornero. Ma le cose non stanno affatto così. E poi, a centropagina, la Rai paga Cottarelli 6.500 euro appuntata per sparare sul governo. In taglio medio, agenti sui treni, coprifuoco per i negozi etnici. Salvini annuncia emendamenti al decreto sicurezza. E le società di calcio paghino l'ordine pubblico. Andiamo ora avanti. Siamo sulla prima pagina del tempo. Che apre così, non confessi, cella, vista mare. Esclusivo, interrogatorio shock del noto PM di Trani Ruggero, finito sotto processo. Doveva lavorare con buona fede. Il test è se mi arresta, mi sparo. Prenda la pistola. E poi ancora il tempo di Oscio. Al centro con una immagine del vicepremier Salvini, della compagna Elisa Isoardi, detto in italiano, cosa possiamo mangiarci a quest'ora. L'unica cosa, un panino da ozzone. E poi ancora di spalla, ancora le conseguenze della manovra. governo a caccia di soldi, tocca ai giornali, via tutti i fondi per l'editoria. E poi ancora in basso, l'ex ministro corre al congresso, Renzi lancia Minniti alle primarie del PD. Andiamo avanti e siamo sulla prima pagina della stampa. Ecco qui, Cucchi, il carabiniere confessa il pestaggio, sconfitta l'omertà, il coraggio di Ilaria, la sorella, e il riscatto dello Stato. E poi ancora attacco alle autoriti, lo scudo di Mattarella dopo l'affondo del governo contro Banchi Italia. L'indipendenza non si discute, def ok delle camere, allarme di Boeri, 100 miliardi di debiti in più per la Previdenza. Andiamo a chiudere con la prima pagina dell'avvenire. Ecco qui, Mattarella, nessuno abbia troppo potere. Scontro governo IMSS sulle pensioni a quota 100. Dal Presidente un forte richiamo agli equilibri in democrazia. Il Parlamento approva il DEF sullo spread. Lunedì, varo della manovra. E poi al centro pagina, l'iniziativa presentata in Laterano a Roma, i 50 anni di avvenire su un francobollo. Lasciamo le testate nazionali, torniamo a quelle locali. E siamo a pagina 2 del centro. Ricordate che nella prima pagina il titolo d'apertura comune delle quattro edizioni era improntato ai vaccini. E infatti a pagina 2 l'argomento viene ripreso via alla campagna. Vaccini disponibili, 245 mila dosi gratuite. Dal 31 ottobre sarà possibile proteggersi dal rischio di contrarre il virus. La Regione ha speso 1,7 milioni di euro per l'acquisto delle confezioni. E poi in basso incendi dei boschi, 1,8 milioni investiti, interventi effettuati in meno di 24 ore. L'assessore Mazzocca traccia il bilancio. E poi ancora, sempre sul fronte sanità, anche l'Aquila e Teramo avranno il super ospedale. Ecco tutte le novità e le conferme sui presidi pubblici che saranno approvate oggi. Sono sette quelli principali nella tabella localizzazione di tutte le discipline. Andiamo avanti. Pagina 5. Sanitopoli. Ultimo atto del Turco e Cesarone. Condanne definitive. La sentenza della Cassazione Cagliazza, legale dell'ex governatore. Richiederemo la revisione del processo. Confermati 3 anni e 11 mesi per l'ex presidente, 3 anni e 9 mesi per l'ex capogruppo della Margherita. Anche femminile, difensore dell'ex consigliere, potrebbe chiedere l'affidamento ai servizi sociali. Allora vediamo il servizio del Tg6. La seconda sezione penale della Cassazione, dopo l'udienza di ieri, ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa, confermando la condanna a 3 anni e 11 mesi per l'ex governatore dell'Abruzzo, Ottaviano del Turco, nell'ambito del processo Sanitopoli. Il legale di del Turco, Gian Domenico Cagliazza, aveva posto ricorso per chiedere di annullare la condanna a 4 anni e 2 mesi di carcere per associazione per delinquere e induzione in debita, emessa un anno fa dalla Corte d'Appello dell'Aquila nei confronti di del Turco. In primo grado, l'ex governatore era stato condannato a 9 anni e 6 mesi dalla Corte di Pescara. Il grande accusatore di del Turco, l'ex titolare della clinica Villapini, Vincenzo Mariangelini, in appello, era stato assolto dall'accusa di corruzione, mentre in primo grado era stato condannato a 3 anni e 6 mesi. Nel ricorso in Cassazione, l'Avvocato Cagliazza, aveva eccepito carenze, contraddittorietà e illogicità della motivazione e una violazione della legge soprattutto rispetto alle norme sulla verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni rese da Angelini. Del Turco venne arrestato il 14 luglio del 2008 assieme ad altre 9 persone, tra le quali ex sessori e consiglieri regionali. L'ex presidente finì in carcere a Sulmona per 28 giorni e trascorse altri 2 mesi agli arresti domiciliari. A seguito dell'arresto del Turco il 17 luglio 2008 si dimise dalla carica di presidente della regione e con una lettera indirizzata all'allora segretario nazionale del partito Walter Veltroni si autosospese dal Partito Democratico di cui era uno dei 45 saggi fondatori nonché membro della direzione nazionale. Le dimissioni di Del Turco comportarono lo scioglimento del Consiglio regionale e il ritorno anticipato alle urne per i cittadini abruzzesi che poi scelsero la figura di Gianni Chiodi. Alla condanna di primo grado dopo un lungo processo si arrivò nel luglio del 2013. Il tribunale interdì Del Turco dai pubblici uffici durante la pena e lo rese incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per la stessa durata. Con l'ex governatore vennero condannati a 9 anni l'ex capogruppo del Partito Democratico in Regione Abruzzo Camillo Cesarone stessa pena per Luigi Conga ex manager dell'Asle di Chieti sia anni e mezzo per Lamberto IV all'epoca dei fatti segretario della Presidenza quattro anni all'ex deputato del PDL Sabatino Aracu e all'ex assessore del PD Antonio Boschetti e due all'altro ex assessore alla sanità Bernardo Mazzocca. Siamo sempre sulla stessa pagina sul fronte della cronaca giudiziaria Chiodi e Venturoni no alla prescrizione tetti di spesa alle cliniche a gennaio verranno processati per falso violenza privata e abuso d'ufficio e poi ancora in basso la riforma davanti al Tar da Pescara il ricorso anti-Madia soppressione del corpo forestale a marzo l'udienza della consulta andiamo avanti fino a pagina 10 pagina della pagina Abruzzo eccola qui Masterplan a rischio il documento chiave così l'esperto di Tolinelli chiarisce tutto l'operazione verità del capo del gabinetto del MIT la regione gli risponde il giorno del crollo del ponte di Genova Gino Scaccia è docente a giurisprudenza a Teramo e lui che interpreta in modo giusto la delibera di D'Alfonso e Lolli sui fondi per A24 e A25 e poi ieri presa di posizione anche del Movimento 5 Stelle abruzzese la decisione è stata presa in giunta da D'Alfonso dicono appunto dal Movimento 5 Stelle poi le dichiarazioni dell'ex ministro dei trasporti del Rio la soluzione esiste già il suo governo attivo un fondo di un miliardo fermo da 5 mesi e poi in basso Oscar dell'accoglienza all'Abruzzo premiazione alla Fiera di Rimini il riconoscimento è assegnato sulla base delle recensioni online ora le pagine di Pescara all'auditorium Castellamare un teatro in centro per i grandi eventi i lavori finanziati dalla Lega Antidroga daranno vita a una sala da 200 posti pronta entro l'anno rappresentazioni del TSA a due anni dalla morte moglie e filia stanno realizzando il suo sogno il sogno di Gianni Cordova una struttura per ospitare spettacoli di altissimo livello e poi in basso ipotesi di un grattacielo nelle aree di risulta Antonelli di Forza Italia un edificio più alto al posto di due previsti nel progetto consensi nella maggioranza poi ancora pagina 18 Mense salta l'intesa sui festivi da pagare ai 130 lavoratori fallisce l'incontro tra serenissima ristorazione e sindacati l'azienda avverte retribuzione sospesa con le scuole chiuse poi verso le elezioni in provincia in particolare in provincia di Pescara presentate le candidature provincia una sfida a tre per il posto di presidente qui vediamo chi sono i candidati Luciano Di Lorito sindaco di Spoltore Vincenzo Catani di Picciano e Antonio Zaffiri di Colle Corvino avanti ancora torniamo alla cronaca giudiziaria De Fanis era dipendente dalla sua segretaria l'assessore regionale alla cultura condannato a 6 anni e 10 mesi per le tangenti nelle motivazioni dei giudici anche il contratto sessuale con la Zingariello avanti ancora via Tronto il cantiere apre tra le speranze degli sfollati alla ripresa dei lavori per i 64 alloggi anche le famiglie di Via Lago di Borgiano finalmente avremo una casa le due palazzine saranno ultimate tra nove mesi e poi ancora questa due pagine tutta dedicata all'entusiasmo che si respira a Pescara per il primo posto della squadra e Pescara si innamora di Pillon primo posto tutto merito di Bepi risultati e gioco l'allenatore dopo la salvezza della passata stagione sta conquistando la piazza riduce dalle delusioni degli ultimi anni sette giornate e un primato inatteso viaggio nella città tra i tifosi che sognano di ripetere gli esploat del 2012 2016 qui vediamo le foto di alcuni degli intervistati ci sono anche dei volti un po' più unnoti oltre che tante espressioni del mondo del commercio poi troviamo anche il comico Duccio l'imprenditore ed ex assessore Stefano Cardelli il presidente del comitato Abruzzo della Fedelcalcio Daniele Ortolano la prudenza della piazza leggeva ancora si intreccia con la speranza alimentata dall'ottimo avvio di campionato cresce la popolarità di Mancuso protagonista finora con 5 gol il tecnico apprezzato per le doti umane e professionali confermato lo scarso feeling tra i tifosi e il presidente Sebastiani ma c'è chi lo apprezza andiamo avanti pagine di Montesilvano agricoltura web radio per unire i giovani e anziani la Croce d'Ossa presenta anche i web un'iniziativa che combatte la solitudine crea opportunità di lavoro per i disoccupati e promuove la formazione e poi ancora sempre a Montesilvano circomalazione no ai tir centralina per controllare l'aria tutto questo dal comitato vestina pulita e poi ancora la cronaca a cappelle trovata la donna la cercavano nel fiume era a casa i familiari l'hanno scovata mentre dormiva dietro il divano per lei si erano mobilitati 100 soccorritori e poi ancora Francavilla al mare erosione della costa segnati i lavori per realizzare i pennelli a nord ad aggiudicarsi la gara a ditta la tenaglia di Casoli l'intervento costerà 900 mila euro il sindacato balneatori e il titolare dell'ido bianco dicono speriamo possa avere inizio al più presto e poi ancora a popoli false maglie della Juve con il nome di Ronaldo imprenditore nei guai le fiamme gialle sequestrano vicino a Manopello capi contraffatti apparecchi per la duplicazione di marchi e poi la cronaca e passiamo alle pagine di Chieti ma qui siamo in provincia a San Salvo con questa operazione antidroga cocaina e hashish nel ristorante dei VIP in Magnette il titolare del Baniti trovate sostanze per valutare la purezza della sostanza gli investigatori clientela di livello l'operazione considerata il punto di partenza di un filone che avrà che darà altri sviluppi e poi le parole del nuovo questore Ruggero Borzacchiello che dice proteggeremo il territorio vastese e poi per la politica il centrodestra va alla conta Chieti la Lega salva di primio ma ora basta promesse Costantini pronto a sostenere la maggioranza in crisi però serve un piano serio di Paolo Attacca sindaco ostaggio dei ricatti Febo pensa solo al poltrone le pagine di Teramo Sanità Servizio Rischio Asla a fine mese via 191 operatori sanitari riunione fra vertici aziendale e sindacati si prevedono forti disagi in reparti strategici come medicina e pronto soccorso e poi in taglio medio radiologia il nuovo primario è caputo è una famosa neuroradiologa che arriva dall'ospedale di Terni la nomina è attesa per questa mattina e poi ancora sempre nelle pagine di Teramo la storia che arriva da Giulianova basta fabbrica meglio la campagna operaio giuliese impianta una coltivazione di melograni giganti li ho visti in Puglia e me ne sono innamorato eccolo qui Flavio Stacchiotti nella sua coltivazione di melograni e poi ancora a Silvi fondi dirottati da sociale a sport scontro nel consiglio di Silvio posizione contraria alla variazione di bilancio che destina 40 mila euro alle società sportive le parole del sindaco Scordella soldi spostati per pagare contenziosi pregressi l'attenzione al tema resta poi ancora le pagine dell'Aquila si scatena l'asta per l'ex scuola Race Romoli tra le ipotesi di riconversione nuovo ospedale una cittadella del calcio residenza per anziani offerte fino a 5 milioni una struttura che si estende su 170 mila metri quadri la struttura ormai inutilizzata da diversi anni ancora in buone condizioni nonostante le frequenti incursioni dei ladri e la presenza notturna degli invisibili in taglio medio muore a 42 anni la scrittice Ardingo si è spenta al Polichinico Gemelli era figlia dell'imprenditore Luciano funerali domani a Collemaggio e poi ancora dramma a Luco De Marsi paura delle botte bimbi nell'armadio i tre ragazzini sono sbucati fuori solo dopo l'arresto del padre accusato di aver picchiato la moglie poi scappata di casa è il momento di fermarci chiudiamo qui la prima parte di mattino 6 spazio della previsione del tempo la pubblicità poi rientriamo con altri servizi e con le pagine di Messaggero e la città di nuovo buongiorno seconda parte di mattino 6 che riprendiamo con il messaggero Abruzzo la sanitopoli abruzzese del turco condanna ormai definitiva tre anni e undici mesi l'ex governatore colpevole del reato di induzione in debita la difesa giudizio di revisione toglieremo l'ultimo pugno di fango e poi ancora le reazioni da Collelongo il paese di Ottaviano del Turco il paese con il presidente montagne di prove dite dove è andata a finire e poi in basso ancora il caso Masterplan A24 A25 autostrade il Movimento 5 Stelle solo un anticipo di cassa allora vediamo il servizio del TG6 quella di oggi è stata definita dal Movimento 5 Stelle l'operazione verità riguardo i fondi del Masterplan voi avete parlato di una verità che è stata mistificata dal centro-sinistra il centro-sinistra il Partito Democratico ha di fatto mentito e continua a mentire da 5 giorni si continua a parlare di scippo si continua a parlare di taglio di risorse si continua a parlare di pericolo per i comuni e per i soggetti attuatori di vedersi non trasferiti i fondi necessari all'esecuzione degli impegni dei progetti previsti nel Masterplan ma è tutto falso e i documenti che abbiamo mostrato oggi lo dimostrano non c'è nessun taglio si tratta di una semplice anticipazione di cassa di fondi per la quale la liquidità non è necessaria a Regione Abruzzo questi soldi sono fermi e sarebbero prestati al Ministero per effettuare i lavori di messa in sicurezza sulla 24-25 che mi sembrano fondamentali ed urgenti per questa Regione per soli due mesi cioè tra due mesi verrebbero restituiti in legge di stabilità si sta facendo una polemica strumentale e una propaganda elettoralistica voi avete parlato anche di un decreto in giunta il 499 del 9 luglio la delibera 499 della giunta d'Alfonso presidente d'Alfonso presente Lolli autorizzava espressamente il Ministero a prendere in prestito per semplificare questi fondi visto che erano per ora inutilizzati con l'impegno di restituirli al più tardi nella legge di stabilità o nella legge di bilancio quindi a renderli disponibili nuovamente al 2 gennaio 2019 esattamente quello che sta dicendo il Ministro Toninelli negli ultimi giorni tanto questo è vero che c'è una comunicazione persino dell'ingegner Primavera che è il direttore del Dipartimento delle Infrastrutture e Trasporti di Regione Abruzzo del 17 agosto 2018 che scrive al presidente della giunta che è diventato Lolli e al dottor Rivera al direttore generale di Regione Abruzzo vista la delibera che autorizza a prestare questi soldi mi date indicazioni su come procedere su come rimodulare i fondi FSC del Masterplan per cui gli ultimi 5 giorni sono stati 5 giorni di menzogne Proseguiamo sempre sul messaggero Chiodi rinuncia alla prescrizione con Lanfranco Venturoni ha detto no al paracadute va avanti il processo sui tetti di spesa delle cliniche private l'ex presidente della Regione teme una regia di poteri forti il 16 gennaio parola ai testimoni dell'accusa tra cui Pier Angeli e poi ancora si parla dei contratti delle case di cura che secondo l'accusa sarebbero stati estorti con la minaccia del disaccreditamento e poi ancora gli altri coinvolti Baraldi e due tecnici dell'agenzia regionale restano imputati solo formalmente fino alla sentenza poi le parole dello stesso ex governatore Gianni Chiodi non voglio ombre sul mio operato poi ancora è anche un'occasione per far conoscere la storia della sanità della nostra regione dicono l'ex governatore Chiodi e l'ex assessore Venturoni poi in basso medici alla sbarra Elvira faticava a tenere la mascherina la paziente morta nel 2014 in ospedale la testimonianza delle infermieri il perito conferma i guasti all'ossigeno avanti ancora case di Tronto sbloccati i lavori il sindaco Alessandrini dice una buona notizia soprattutto per le 74 famiglie sgomberate da Via Lago di Borgiano superati gli intoppi burocratici e un appalto finito male nel 2006 dice Blasioli 9 mesi per realizzare 64 alloggi vediamo anche in questo caso il servizio del TG6 sono circa 600 650 le famiglie che hanno fatto domande per le case popolari nelle nostre città noi avevamo questi due immobili che sono alle nostre spalle che porteranno a 64 appartamenti quindi al 10% diciamo di soddisfazione di quelle famiglie che dovevano ripartire è una questione morale riutilizzare quei soldi ecco perché ci siamo impegnati a fondo anche con il Ministero a Roma e con i contenziosi che ci sono stati con la ditta che precedentemente aveva realizzato questi scheletri ora il lavoro può veramente ripartire 20 giorni di bonifica e poi 270 giorni di lavoro per riconsegnare alla città due palazzine 64 immobili che verranno destinati alle famiglie di Via Lago di Borgiano che sono state sfollate e a chi c'era precedentemente e quindi libereranno intanto gli appartamenti che sono stati assegnati in medio tempore che consentiranno di trovare soddisfazione a tante famiglie che hanno fatto richiesta di una casa popolare che è una cosa molto importante per un'amministrazione comunale è importante perché eticamente rimettiamo in circolo questi 3 milioni e 600 mila euro che servono per rifinire questi appartamenti è importante perché ridiamo decoro a chi in Via Trinio in Via Tronto e in Via Tavo è stato costretto ad abitare qui dal 2006 e ad oggi confrontandosi con questa triste realtà ci sono tante famiglie a cui noi possiamo dare soddisfazione possiamo dare soddisfazione naturalmente con questi 64 nuovi appartamenti con altri che sono in corso di realizzazione ma anche con gli sfratti degli abusivi che io penso che a breve ci saranno ancora le pagine della cronaca della provincia di Pescara taroccavano le maglie di Juve CR7 scoperto e sequestrato dalla Guardia di Finanza di Popoli un laboratorio clandestino di articoli sportivi contraffatti denunciato irresponsabile trovate decine di maglie bianconere dispositivi per la stampa di marchi falsi le fiamme gialle sono arrivate al magazzino in Val Pescara dopo una serie di accertamenti e poi ancora a centropagina cultura mazzette e sesso ha contratto le ragioni della condanna dell'ex assessore regionale Luigi De Fanis avanti ancora con le pagine dell'Aquila alla caserma Rossi scuole uffici e sede dell'agenzia delle entrate il sindaco ha presentato una serie di riposizionamenti strategici di servizi e attività il 60% del complesso militare andrà al comune il resto al De Magno nascerà un campus con primarie e infanzia oggi nella zona est della città poi a piedi pagina gestione verde acqua bocciata la proroga il consiglio di stato da piena ragione alle società ricorrenti ancora da chiarire il caso di sversamento di cloro e poi ancora sempre all'Aquila un parcheggio al posto dell'ex Inam il progetto prende quota l'ASL cederebbe l'area in permuta l'idea lanciata da Pietrucci si risolverebbe un grande problema 5 milioni già disponibili bisogna cambiarne la destinazione il comune ha spostato la causa inserendola nel piano mobilità e ora andiamo in Marsica massacra la moglie davanti ai figli arrestato dopo l'escalation di violenze tra le mura domestiche inseguito la moglie che si era riparata a casa dei suoi forze dell'ordine in azione contro le aggressioni alle donne la polizia fa scattare le manette ai polsi di due avezzanesi e ora le pagine di Chieti Ateneo c'è il nuovo senato ecco tutti i nomi degli eletti la più votata è la meo seguono fornari catenacci alle urne in quasi 900 scelti 22 rappresentanti per l'organo universitario tra docenti e personale assegnato anche un posto nel cda dell'azienda per il diritto allo studio di spalla leggiamo giornate fai d'autunno viaggio tra mare e terra i misteri del cimitero del capoluogo il centro di ortona l'antica cluvie di casoli e il borgo di pennapi di monte poi ancora in basso provincia sfida pupillo di primio per conquistare la presidenza depositata le firme vie libera ai candidati scopino non si presenta e poi ancora a san salvo cocaina nel termos arrestato barista l'operazione denominata happy hour ha fatto scattare le manette per tiziano di paolo proprietario del vanity caffè oltre a sprizz noccioline stuzzichini ai clienti più esigenti veniva servita nel contenitore anche droga purissima siamo alle pagine di teramo ecco qui stangata tari è rivolta il sindaco la ridurrò le parole ancora di d'alberto per quest'anno si può fare poco ma nel 2019 il pacchetto rifiuti sarà tutto rivisto le bollette con gli aumenti dovute ad un atto del commissario prefettizio il 60% è andato a gravare sulle famiglie vertice in municipio e poi di spalla funzionano le sinergie delle forze dell'ordine il bilancio di spiagge sicure contraffazione debellata nei luoghi di intrattenimento e poi in basso d'incecco quando la promozione è fai da te oggi la convention organizzata da Lignazio nel frattempo i privati creano idee chiudiamo con il messaggero con la pagina di cronaca della costa Terramana in particolare Giulianova la risposta dei vigili raffica di multe non si vedono dice il sindaco facente funzione Cameli poi la relazione del comandante Giustini è boom di verbali valanga di sanzioni ieri in via di Vittorio dove le auto in sosta creavano problemi al passaggio della spazzatrice la stessa situazione dicono molti cittadini era accaduta il giorno prima nelle vie Nievo e Matteotti e poi ancora il PD Giuliese vuole un candidato alle regionali lasciamo il messaggero andiamo ora sulle pagine interne della città e partiamo da pagina 6 con questa apertura nominati i primari di due reparti chiave Fagnano trova la soluzione per radiologia e chirurgia del Mazzini affidati a Nevia Caputo ed Ettore Colangelo e poi il destino dei 191 la ASL è pronta a rischiare per salvaguardare due mesi di contratto fino alla fine dell'anno per i 191 a rischio pagina 7 fronte stangata Tari pronte le azioni per ridurre i costi del servizio il sindaco D'Alberto punta il dito contro chi lo ha preceduto e annuncia l'arrivo della tariffa puntuale è necessario rimodulare il servizio del porta a porta per abbattere i costi fissi e quelli relativi al servizio stesso dice il primo cittadino e poi D'Alberto ribadisce la necessità di rivedere la gestione dei rapporti con la Teramo Ambiente avanti ancora Anas insiste ponte San Gabriele del Comune nuovo tavolo ieri mattina in prefettura sulla sicurezza della struttura si cerca una soluzione condivisa tra i primi interventi nuovo manto stradale tamponatura delle infiltrazioni e percorsi protetti per i pedoni pagina 9 torna in centro il mercatino dell'antiquariato appuntamento il primo e il 2 novembre con la manifestazione organizzata dall'esperto Gianni Brandozzi e poi ancora pagina 10 apertura dai grandi numeri per la Fenice doppio evento e tanta partecipazione per il taglio del nastro nel nuovo showroom di Piano Daccio proseguiamo andiamo alle notizie che arrivano dalla provincia ecco qui in 27 a processo per lo spaccio sulla costa approdo in tribunale l'operazione Prince che nel 2014 sgominò un vasto traffico di eroina e cocaina nel corso delle operazioni della finanza vennero sequestrati 5 kg di sostanze stupefacenti tra Giulianova e Vibrata secondo quanto ricostruito dalla DDA il giro era gestito dalle donne del clan di Giorgio avanti siamo a Santomero che fine ha fatto il centro disabili la regione aveva finanziato per altri scopi la struttura che ospita l'Unione dei Comuni e gli uffici regionali hanno inviato una lettera al Comune chiedendo notizie sullo stato dei lavori qui siamo a Giulianova attacco finale del PD a Mastro Mauro sindaco ambizioso poco democratico e pronto all'inciucio con Arboretti altro che Asmel la Vasanella ha annunciato che i lavori per la nuova caserma saranno affidati ad ottobre poi ancora siamo ad Atri agenzia dell'Inps di Atri a rischio chiusura l'allarme del sindaco Ferretti dopo aver ricevuto la circolare dell'istituto di Previdenza la sede di Atri non avrebbe requisiti per quel che riguarda la popolazione servita e il personale poi di spalla leggiamo a Roseto Multopoli assolto il comandante Tarcisio Cava proseguiamo e siamo a pagina 18 a Silvi pronto il nuovo centro federale di Silvi martedì il taglio del nastro alla presenza delle autorità della Federcalcio e del sindaco si tratta del secondo polo abruzzese dopo quello aperto due anni fa a Castel di Sangro andiamo ora sulle pagine dello sport siamo a pagina 21 mea culpa Proietti a Salò troppo remissivi dice il centrocampista arrivato in prestito dal Pescara quando sei alle corde bisogna avere la forza di dare qualcosa in più il mediano e il Ragneri sembrano essere troppo simili per giocare in parti differenti di campo ma l'ex Pescara smentisce a Roberto piace giocare la palla meglio averne di giocatori così e poi circa le ultimissime in vista della gara di domani l'anticipo del Neri contro il Rimini a Rimini spazio al 3-5-2 in dubbio Caidi davanti fuori bacio del racino ultime ore per mister Zichella per testare il nuovo schieramento se non dovesse farcere il difensore è già pronto Altobelli facciamo un salto ora sulle testate nazionali prima di tornare su centro è messaggero ecco le prime di Gazzetta Corriere è tutto sport partiamo dalla Gazzetta caccia agli assi le nostre big partono già l'assalto dei campioni con il futuro in bilico Juve al bivio tra Rabiot e Pogba Modric e Triste e Ubole l'Inter tra Ibre e Milan ritorno di fiamma Piontek bianconero occhio al Napoli e poi ancora di spalla Allegri si scopre Juve l'ora della Champions l'abbiamo sfiorata due volte speriamo sia l'anno buono e poi ancora verso il derby l'Inter gode per Lautaro un primo gol con l'Argentina e poi Leo avvisa Spalletti il mio Milan è in crescita a piedi pagina pazzi per le ragazze del volley l'Italia batte anche gli Stati Uniti 9 su 9 ora Giappone e Serbia lunedì e martedì le due sfide della Final Six per il ciclismo Gran Piamonte volata col Brelli domani lo show del Lombardia andiamo ora sul Corriere dello Sport in primo piano la vicenda di Cristiano Ronaldo CR5 domande Ronaldo vuole farsi interrogare Real e stampa portoghese si attaccano a colpi di smentite e contro smentite la Juve perde il ricorso contro la chiusura della curva sud pena raddoppiata e poi sotto la testata Barella e Derby testa a testa sul mercato costa 45 milioni duello anche per Biraghi Inter e Milan sul talento del Cagliari e poi in basso cosa non va nel mondo degli arbitri dopo la rivelazione del Corriere sulla clausola antiricorsi il Corriere svela altre zone ed ombre altri richiami Polonia battuta 2-3 domenica la sfidiamo per la Nations League ovviamente il riferimento è gli azzurri di Mancini poi ecco tutta la verità sui conti della Roma Napoli torna Meret convocato per Udine e ora tutto sport con una foto di Cristiano Ronaldo ora parlo io Ronaldo pronto a farsi interrogare in videoconferenza per smontare le accuse della Maiorga e poi ancora Barella in fiamma Inter-Milan Candreva Scatena Zazza Belotti sotto la testata azzurri imparate da loro la nazionale di Mancina a Naspa Under 21 e Under 20 KO le ragazze dell'Italvolley entusiasmo nei mondiali nona vittoria di fila torniamo ora su centro e messaggero rapidamente per vedere le notizie di sport qui siamo sul centro le parole di Marco Tardelli in Italia qualcosa sta cambiando c'è fiducia e speranza attorno al nuovo corso di Mancini Verratti per me non è ancora un leader deve migliorare ieri Marco Tardelli al palazzetto dello sport di Montorio al Vomano ha anche incontrato gli alunni delle scuole di Montorio l'ex Mezzala a colloquio con 300 studenti insieme al figlio del compianto Furio Valcareggi per presentare due libri e qui troviamo altri scatti della giornata di ieri al palasport di Montorio avanti ancora serie B Campagnaro è tornato all'anima rock il difensore argentino della colonna della difesa biancazzurra di Pilon leader silenzioso Amagli si di si e con la sua chitarra ha unito il delfino in basso donne biancazzurre amore donne biancazzurre in festa amore lungo 41 anni domani all'auditorio Petruzzi l'evento organizzato dal club fondato nel 77 da Nella Grossi poi ancora per la serie C proietti Teramo Coraggio a Rimini per il riscatto e poi ancora il rugby pronto al via l'aquila il nuovo corso tra dubbi e curiosità squadra composta da giocatori locali all'esame della serie A e poi ancora ripartirà anche la C1 con tre club abruzzesi la squadra cadetta dell'Ur l'aquila il Pescara inseriti nel girone G mentre la polisportiva abruzzo Rebels esordirà a Brecciarola contro il Forlì andiamo ora sul messaggero con le pagine di sport lupo zero stress Pescara da vertice l'ex DS conferma i pronostici se l'obiettivo non diventa un'ossessione può andare lontano su Mancuso esploso tardi rispetto alle qualità grazie a Pilon è al top e poi le parole del procuratore Donato Di Campli Macin destinato in A spero con il Delfino per il basket in basso leggiamo Roseto Sherrod prepara il duello con Miles arriva Cagliari capitano antifona Mantova adesso in casa musica diversa e poi ancora per la Serie C voglio la vittoria domani contro Rimini il presidente del Teramo Campitelli ha spronato Speranza e compagni negli spogliatoi in vista della trasferta in Romagna per il calcio a 5 Civitella ci riprova questa sera ad Eboli e poi per il calcio di Serie D colpo del Real preso il bomber Mangiacasale che ha giocato sei mesi nel passato anche a Chieti poi in basso Armonia d'Abruzzo via al campionato Germana Germani punta al tricolore poi per il volley si equa accordo per la vendita dei biglietti domenica il debutto contro Bergamo finiamo qui con Mattino 6 che tornerà domani alle ore 8 vi ricordo gli appuntamenti con il TG6 alle ore 14 alle ore 19 e alle ore 23 io ringrazio in regia Claudio Di Giacomo e ringrazio voi per la cortese attenzione e buona giornata a a la roba o dopo a a a a Grazie a tutti